Fa un passo Pepe Reina ma capisce subito, insomma è raggiungibile questo pallone, questa traiettoria Eccolo qua, il sinistro meraviglioso, Di Emanuele Calaio, il suo secondo gol al Napoli in carriera non esulta Come non esultò due anni fa quando con il Napoli, con la maglia del Siena, gol pesantissimo, torna il rete dopo